Uccidilo e problema risolto Non avvicinarti oltre, questa storia non ti riguarda Ti prego, aiutami! Vogliono uccidermi! Daci! Che sta succedendo qui? Questa cosa è un sintetico, ecco cosa sta succedendo Sono settimane che ci viaggiamo insieme Oggi però si è lasciato scappare di essere uno dei ragazzi dell'istituto Di esserlo sempre stato Perché pensavo che voi foste miei amici Non potrei mai essere amico di un cazzo di sintetico Ma noi lo eravamo, eri già amico di un sintetico Per favore lasciatemi andare, non chiedo altro Credi che sia stupido? Filerai dritto all'istituto e poi spedirai i tuoi amichetti a farci fuori Beh, è bello, te lo puoi scordare Io non sto con l'istituto, sono fuggito Devo soltanto arrivare a Bunkeril, poi non sentirete più parlare di me Per favore Tu mi credi, vero? Non puoi lasciare che mi uccida Se è un uomo dell'istituto Non pensi che uccidendolo quelli saranno più furiosi che mai Lasciarlo andare è la cosa più sicura da fare Io... Beh, hai ragione Va bene, ma se rivedrò la tua faccia Giuro che ti pianterò un proiettile in mezzo agli occhi Oh mio Dio Oh grazie, grazie Adesso, levati di torno Grazie a tutti 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 Fantastica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti